ragazzi buona giornata da mikicrow benvenuti benvenuti su youtube andiamo subito a vedere lo shop di fornite di martedì primo agosto andiamo subito a vedere nel dettaglio il negozio oggetti e intanto saluto tutti quanti tutti gli iscritti li ringrazio che continuate a seguirmi iscrivetevi al canale e ovviamente il mio gruppo whatsapp il mio team di forn e i miei moderatori i primissimi top donator baldo caliazzoro e marco capitano 07 iniziamo con lo shop carrellata velocissima la faccia vedere in maniera veloce spider verse il bundle 2006 eccolo qua già proposto da diverso tempo e poi ovviamente tutti gli oggetti della marvel bellissimo bundle di spiderman 0 molto bello il bundle eccolo qua molto molto bello mary j waltz 1.500 e si passa poi al grandissimo green goblin ragazzi bundle green goblin 1900 ecco tutti gli oggetti proposti nel band ed ecco poi ravenpool cocco pool dragon corn e poi le moto molto carina sfrecciante 500 vbac e chimichanga da 300 vbac ed ora i classici dell'estate ragazzi la bruma estiva strega surf molto bella 1200 vbac il bundle occhio al surf da mille e 800 vbac ecco tutti gli oggetti proposti nel bundle poi si passa ad altri classici dell'estate esploratori del caso 800 e poi emote molto carine fra cui passeggiata soleggiata a 300 vbac atmosfera isolana a 500 vbac sudato proprio a tema 200 vbac bellissimo lava 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 da 200 da 300 vbac molto carina e una ragazzi 800 vbac ed ecco i bundle brutus da spiaggia il gius da spiaggia ragazzi l'abbinamento però gius è bellissimo ragazzi da sola 1200 vbac molto bella questa skin ed ecco ne altre specialiste della bronzatura il bundle orse tuffola da 1700 dove c'è la skin ovviamente seed che da sola costa 1200 vbac ed ecco il bundle rubino e opola ragazzi molto bello questo abbinamento soprattutto la bellissima rubino 1200 se la volete da sola e poi ruby passarella sempre 1200 fenicottero reale a 800 vbac il bellissimo pagurito ragazzi il dorso decorativo da 400 vbac e poi il bundle deriva estiva da 2005 il bellissimo bundle cristallo sub ragazzi da 1700 altrimenti solo la skin da 800 secondo me questa per il prezzo ne vale veramente la pena ad acquistarla poi il bundle frenesia alimentare ragazzi ho settegetti a 2007 il bundle sabbia dorati ragazzi da 2000 vbac e poi colpo ragazzi da 1200 vbac il bellissimo bundle bombarola da spiaggia da 2000 altrimenti solo la skin bombarola da 1200 vbac e poi già da rossa ragazzi 800 vbac l'altro bundle bombarola tempesta lucente anche questo molto bello guardate altrimenti solo la skin da 1500 vbac e poi al bundle migliori amici ragazzi 2200 vbac ecco le due skin proposte altrimenti ogni skin a 1200 lilia e alle tutte due 1200 poi il bundle soldatino ragazzi ecco qua milite giocattoli e pattugliatore di plastica 5 oggetti costa di questi 5 oggetti e 1000 vbac altrimenti ogni skin a 800 ed ecco i giornalieri residui dell'ordine 800 vbac agente speciale 1200 e poi un paio di emote movimenti eleganti da 800 molto carino questo balletto carrozza d'ufficio da 500 posati da 200 vbac e bim bam boom ragazzi copyright e 500 vbac rimane ovviamente tutti gli oggetti di futurama e coi bundle delle varie skin il bundle attrezzature futurama rimane anche questo e poi terminato ragazzi il bundle da 2300 vbac la skin è molto bella anche le moto serofista su camion che da sola viene 500 vbac ed ecco l'altro bundle guarda del futuro ovviamente c'è saracona e t800 2500 vbac ecco qua custom offerte speciali a 1500 il bundle acciaio massiccio acciaio massiccio da 1700 molto bella dentro il pacchetto la versione femminile cromo da 1200 vbac il bundle robo ribelli a 1800 vbac naomi usaki il bundle ecco qua da 2004 ecco gli eroi di tamir ragazzi guerriero da 1200 e il piccone ascia da battaglia dievo heart ragazzi da 800 vbac e armatura no la copertura da 300 vbac ecco il bundle armaglietto spikeless qt eccolo qua 2400 vbac il pacchetto incarichi scala livelli vicora da 1200 vbac e tutti i bundle offerte speciali che ci sono ancora vi ricordo per supportarmi come come canale basta inserire prima di ogni volta il vostro acquisto su forne suo su rocker league o su qualsiasi altro gioco epic il codice creatore micicro a tutto attaccato m i k y cr o altrimenti supportarmi in live con le super sticker e super cell a partire da un euro e per questo vi ricordo già vi ringrazio gianti principalmente ora è tutto ragazzi vi auguro ovviamente una una buona giornata o mi è arrivata la crue eccolo qua la nuova crue di agosto molto molto bella ce l'equipaggiamo ce l'equipaggiamo subito facciamoci prima la donna ora è tutto ragazzi vi ringrazio e vi auguro una buona giornata da corrido renato micicro e i gai ragazzi vi voglio bene gg grazie a tutti